Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove andremo a parlare del torneo che è appena finito Oggi della Renegade Runner Andrò a spiegare un po' come ho giocato il torneo, vi spiegherò un po' le mie tattiche che ho applicato per giocarlo al meglio possibile E vi dico anche com'è andata a finire Se voi siete rimasti in live, che l'ho giocato in live ieri sera, vi ricordo di seguirmi sul mio canale Viola per seguirmi in tutte le live Trovate il link nella descrizione Avete visto un po' come è andata la situa ed è andata in una maniera assurda, è andato davvero bene se non fosse per alcune cose Ma adesso vado a spiegarvi Prima di startare vado a salutare tutte le persone che hanno shoppato col mio codice creatore Grazie mille ragazzi per tutti quelli che hanno messo il codice Dave14 nel nego soggetti per prendere le nuove cose di Attack on Titan Detto questo adesso possiamo andare Ho giocato il torneo col signor malo in zero costruzioni Per chi non lo sapeva c'era la versione build e zero build Per scegliere qual era più comoda Ovviamente per me è più comoda zero build Non perché non so costruire ma perché so giocarmela molto meglio Come situa La strategia che abbiamo voluto applicare era quella di atterrare sempre a crocevia Kenjitsu La parte a sud della mappa della nuova zona giapponese Perché atterrare lì? Perché volevamo avere garantito il movement della katana cinetica Perché ci serviva qualcosa per muoverci Per bene, per schivare tutti i colpi o per pushare nel meglio possibile E perché volevamo evitare di usare come movement i rampini di Attack on Titan Infatti ragazzi i rampini di Attack on Titan sono davvero scomodi Non che sono davvero scomodi Certo sono dei rampini Puoi muoverti con tantissima distanza Puoi anche fare degli attacchi che fanno davvero tanto male Ma sono scomodi perché Se tu vieni colpito mentre stai per pushare una persona E se quella persona ovviamente sa che lo stai pushando Per atterrare addosso Per atterrare una spadata Ti becca Tu non puoi fare niente Rimani fermo Atterri Prendi anche danno da caduta E non puoi cambiare armo Cioè c'è una specie di delay Perché vieni fregato E rimani in mano con delle spade che non puoi usare Ecco Non è bello finire in questa situazione Quindi abbiamo evitato di toccare il più possibile Le spade di Attack on Titan E beccare sempre le amme cinetiche Le katane si trovano garantite in questo posto Siamo riusciti anche con parecchio culo posso dire A trovare quasi sempre in ogni partita Uscire dalla città con le katane viola Invece della nuova versione che hanno aggiunto in questo update Cioè quelle blu con due colpi E siamo riusciti sempre a conquistare il posto Perché anche se era un posto molto Disparte da tutto il resto del mondo Era sempre fuori safe Dovevamo sempre correre via C'era sempre qualche team E siamo riusciti sempre a giocarcela bene La nostra strategia era quella di luttare a tutto il posto Prepararci con le katane Quasi ogni partita avevamo praticamente acrobata aereo Questo è stato davvero una bella botta di Ci spostavamo subito nel lago Tra Megacity e Crocevia Prendevamo la zattera con la giampa Andavamo dove c'era il dojo in mezzo al lago Luttavamo con delle chiavi per vedere se c'era qualcosa Di solito c'era sempre qualche persona che ci sparava O da Megacity o dalla zona del benzinaio Ma per il resto non abbiamo mai avuto problemi Utilizzavamo le jump Ci spostavamo a Megacity Ci camperavamo un po' Se avevamo l'occasione Provevamo anche a fare boss E a luttare il cavo Abbiamo fatto il boss e il cavo In due o tre partite Non sempre siamo riusciti a avere l'occasione Di prendere l'arma mitica e gli slurpini Ma in realtà gli slurpini Voglio ricordarlo a tutti quanti Si trovano anche garantiti Dai nuovi airdrop Che sono quelle chest rotonde Che tu schiacci e si caricano nel tempo Anche se hanno il bagliore blu Cioè quello più scarso Gli slurpini sono garantiti E sono due se siamo in una partita a coppie Quindi andateci sempre a raccogliarle Se avete bisogno di cure La maggior parte delle partite che abbiamo fatto Erano muoverci tre tespugli Io portavo i bunkateli Lui le bolle scudo E ci salvavamo in qualsiasi situazione Davvero La prima partita che abbiamo fatto Abbiamo fatto un secondo posto Stra Rubato Perché ho Missato Slash Non so dove è andato Il colpo del pompa mitico Che avevo mirato in testa Un tipo Che state vedendo in questa clip Ma va bene Pegliando la base Di questa prima partita Con 30 punti In una partita 30 punti Erano davvero tanti Abbiamo visto che Avevamo già recuperato Tantissimo Il punteggio Abbiamo fatto davvero Una bella partita Quindi abbiamo replicato La stessa strategia Ogni volta Anche se il bus era più lontano Il bus era sopra la città C'era sempre Quel giusto numero di gente Un team C'era di sicuro E riuscivamo sempre A farli fuori Questo voleva dire Punti gratis L'altra strategia Era puntare Ad avere La top Che arrivava Dalla metà persone Quindi Quando eravamo circa 50 Arrivavamo nelle prime top E poi Rimanere il più possibile Assieme E non separarsi Molte volte abbiamo fatto Una cosa molto infame Cioè quella di stare Dentro un cespuglio E aspettare che qualcuno Si avvicinava Per stompargli la testa Con il pompa E poi la mitraglietta E' stato davvero molto infame Ma ci ha giocato E ci ha regalato Tantissimi punti Ma Questi punti Sono bastati Per poter ottenere La renegade runner La nuova skin Della renegade E tutto quanto il suo bundle No E' Purtroppo 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 No Purtroppo No Perché No Perché Abbiamo avuto Dei problemi Con i server Di Epic Games E le nostre Connessioni In generale Non saprei come Spiegarlo Sia io Che lui Nell'ultima Ora del torneo Ci mancavano Quattro partite E abbiamo visto Che la connessione E' proprio Esplosa A entrambi Io ero anche In live E purtroppo Ragazzi Per quelli che sono rimasti E hanno visto Che ho dovuto Staccarla Perché dovevo Sistemare il problema E non potevo Giocare il torneo Visto che eravamo In vantaggio Di parecchi punti Rispetto alla top Che dovevamo Star dentro Ho detto Piuttosto Staccarla live Perché se no Non riesco a fare la cosa E mi è dispiaciuto Tantissimo Purtroppo Epic Games Come ho sentito Da alcune persone Hanno avuto Dei problemi Di server Intorno alle ore 21-22 Quindi era l'ultima Ora E questa cosa Ha pesato Tantissimo La connessione Di entrambi Non è successo A tutti Solo ad alcune persone Non so perché Ma abbiamo avuto Davvero tantissima sfiga Abbiamo fatto Delle partite Con 300 di ping Come se fossimo In Asia Ma non eravamo Collegati In server di Asia Eravamo in quelli Europa Dovevamo giocarlo bene Due partite Le abbiamo proprio Buttate allo start Perché non riuscivamo A muoverci Alla fine Siamo riusciti a fare L'ultima partita All'ultimo secondo Che era startata Intorno alle 22 E purtroppo Siamo riusciti ad arrivare Fino a una top 15 Perché C'è stato Un altro crash Di internet Che ci ha rovinati E Mi hanno laserato In cielo Mentre mi spostavo Con la katana Se riesco a trovare la clip Ve la mostro Perché è davvero Stato imbarazzante Sono esploso Come un fuoco D'artificio In cielo Questo Ci porta A Piangere tantissimo Perché siamo riusciti A concludere il torneo Con 122 punti Che è davvero tanto Per le mie aspettative Perché ragazzi Abbiamo fatto davvero Tante cose Ma Se avessimo avuto Quelle due partite Che abbiamo purtroppo Buttato E se almeno L'ultima che stavo facendo Invece di esplodere Come un fuoco D'artificio L'avessi continuata Un pochino E superare la top 15 Magari arrivare Fino alla top 5 6 Magari con una Chilo 2 Avrei vinto Alla skin Perché la top I punteggi Che servivano In 0 costruzioni Erano 137 punti Circa Invece Nella versione build Erano 138 Quindi neanche tanto La differenza Questo è quello Che è successo Ragazzi Il torneo È stato Perfetto Dall'inizio Ma non fino alla fine Perché purtroppo Alla fine Siamo stati fregati Da una sfiga Vorrei un grandissimo Spam di F Nei commenti Per questo momento triste Perché è davvero Un momento triste E mi dispiace Insomma Aver rovinato Questo momento Cioè non posso Fare niente io Perché non l'ho rovinato È stato Il server di Epic Games Che ha crashato Alcune persone E purtroppo Non possiamo fare niente Epic Games Non ha neanche provato A correggere l'errore E a Allungare il tempo E dare altre partite A quelli che hanno avuto Questo problema Questa cosa È stata davvero Molto brutta La skin Uscirà comunque Nel nego soggetti Nei prossimi giorni Quindi voglio ricordarvi Di utilizzare Il codice Leaf14 Se volete supportare Il canale Io vi ricordo Di iscrivervi Se ancora non l'avete fatto Ringrazio tutti quelli Che hanno lasciato Un bel like A questo video E cos'altro Ho da dirvi Ci vediamo Al prossimo torneo Ci vediamo in live E ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao